4g extraterrestre 5g e ufo amici di come donkey shot ben ritrovati con il tecno ribelle puntata numero 46 terza stagione per chi ancora non l'avesse capito oltre che disumani e antinatura i programmi wireless non sono affatto terrestri dopo motorola per il dichiarato allunaggio di Apollo 11 nel 1969 tra navicelle simili carta stagnola ora arriva SpaceX azienda aerospaziale statunitense del transumanista Elon Musk insieme a Nokia colosso finlandese della telefonia mobile entro la fine del 2023 ambisce a portare lo standard LTE sulla luna cioè il 4g on the moon perché nel 2024 un equipaggio a stelle e strisce vorrebbe provare a volare sul satellite l'annuncio è stato fatto a barcellona nell'ambito del congresso mondiale della telefonia mobile sostenendo come per permettere agli astronauti della nasa di comunicare con la terra il 4g sarà nel cratere lunale shakleton lanciato su razzo space x alimentato da una stazione radiobase dotata di antenna immagazzinata in un lander lunare nova si progettato dalla società spaziale statunitense intuitive machine da un rover a energia solare di accompagnamento le radiazioni del 4g sulla luna fa parte della spedizione artemis 1 stipulate nel 2020 dall'italia con la nasa gli artemis accord cioè gli accordi internazionali per portare gli esseri umani sulla luna entro il 2025 tanto che coi fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza per la gestione post covid 19 attraverso i programmi luna e in orbit servicing per lo spazio sono già stati allocati ben 4 miliardi di euro più altri tre pronti all'uso ai quali se ne potrebbero raggiungere presto di più per creare un riparo italiano per vivere sulla luna mai nella storia delle attività spaziali si era creata una disponibilità di risorse elevate come quelle di oggi 7 miliardi l'euforico commento di giorgio saccoccia presidente dell'agenzia spaziale italiana questo perché o più che mai la colonizzazione dello spazio è un target dichiarato dal 4g dei transumanisti che ne portano avanti il piano antenna dopo antenna mentre avanza il 5g nel 2029 l'uomo arriverà su marte l'annuncio su twitter di elon musk che da sopra le nostre teste ci sta già irradiando con i satelliti wireless in orbita in tutto 8.000 autorizzati 12.000 attese flotte per mezzo milione se restiamo per sempre su questo pianeta dovremo abituarci all'idea che un giorno le risorse energetiche finiranno e ci estingueremo l'alternativa è diventare una specie multiplanetaria che viaggia nello spazio e spero sarete d'accordo che è la strada giusta da percorrere queste le dichiarazioni del tycoon emule di barack obama abbiamo fissato con chiarezza un obiettivo vitale per la storia dell'america nello spazio nel 2016 dalla casa bianca aveva affermato l'ex presidente statunitense inviare esseri umani su marte entro il 2030 e farne ritornare sani e salvi con l'ambizione definitiva di fare in modo un giorno che possano restare lì per un tempo prolungato con un accordo a 2,9 miliardi di dollari sottoscritto con la nasa spacex ambisce quindi a sbarcare anche sulla luna mentre neuralink tenterà ancora di farsi approvare l'innesto del microchip nel cervello umano perché il transumanesimo oltre all'ibrido cyborg nella specie multiplanetaria cerca nuovi pianeti per sistemi che in un prossimo futuro potrebbero consentire alla razza umana di spingersi oltre nello spazio non solo per ragioni di mera conoscenza o varo pionierismo bensì per cercare risorse necessarie al pianeta allora altro che pronto chi parla mi senti ho poco campo aspetta che mi sposto dove prende meglio diffidate dagli ammiccanti spot televisivi diffidate da chi parla di 4g per telefonia mobile da chi giustifica la predazione dei territori con l'installazione di antenna selvaggia nella semplicistica propaganda del così lo smartphone prende di più perché di questi tempi passare dal virus corona ai marziani è davvero un attimo in attesa dello sbarco degli ufo anche questi ufficialmente annunciati dagli americani in guerra fredda con la cina più o meno come con l'unione sovietica ai tempi di mir amstrong l'astronauta confidò a sergio zavoli che nella fase di avvicinamento alla luna aveva visto un gruppo di oggetti misteriosi nelle vicinanze e ancora non c'erano 5g intelligenza artificiale robotica metaverso in realtà aumentata per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a stop 5g salute ambiente geopolitica privacy transumanesimo e controllo sociale libro e inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale terra nuova edizioni oppure sul sito di aggiornamento naturale www.osisana.com ricordandovi come questa pillola tecnoscettica è condivisa anche sul media player le ali del bruco appuntamento alla prossima puntata del tecno ribelle e un caro saluto a tutti da maurizio martucci www.osisana.com ricordandovi come questa pillola